Dopo i lavori iniziati la scorsa estate nel quartiere ellenistico romano e poi al Tempio della Concordia, il Parco archeologico della Valle dei Tempi di Agrigento prosegue nel progetto di manutenzione programmata. Si lavora infatti su un nuovo bando per circa 328 mila euro contro il deterioramento provocato dalla pioggia e dal vento. Si tratta di lavori, spiega il dirigente dell'ente Parco, Carmelo Bernardo, che sono il punto di partenza per un nuovo approccio al problema della conservazione dei monumenti archeologici della Valle. Non dobbiamo più restaurare come opera di necessità ma intervenire gradualmente e costantemente con un'ordinaria opera di manutenzione che tenda con piccoli interventi a preservare nel tempo i monumenti della Valle. Intanto il direttore del Parco, Giuseppe Parello, ha firmato l'impegno di spesa e ha assegnato i lavori urgenti dopo il crollo di un blocco di calcarenite dal versante sovrastante della strada provinciale numero 4. Preso atto, si legge nell'atto di affidamento dei lavori, del crollo come parte di un notevole accumulo di pregressi fenomeni di cedimenti a spese delle scarpate del posto, è considerato che nel verbale di sopralluogo predatto dal leggeologo Giuseppe Presti si segnala la delicata situazione statica dell'area che compromette anche la sede stradale sottostante. Si è deciso di procedere con la massima urgenza affidando in maniera diretta l'incarico di esecuzione dei lavori da eseguire in economia mediante Cottimo all'impresa che dispone di mezzi d'opera idoni agli interventi richiesti e già affidataria di altri lavori all'interno del Parco della Valle.